buongiorno a tutti sono marco fedrazzoni sales director di web fleet solution in questa occasione vi invito al transportec padiglione 24 dall 8 all 11 maggio noi di web fleet saremo presenti con in web fleet mobility talks di che cosa parleremo saranno delle chiacchierate insieme a voi per parlare di sicurezza e sostenibilità sostenibilità e sicurezza viste dal vostro punto di vista di che cosa avete bisogno cosa possiamo fare noi per voi insomma saremmo all'ascolto quindi non mancate venite a trovarci al transportec dall 8 all 11 maggio a presto